...una cosa di meraviglioso, la grandezza immacolata di una rivoluzione di passione e libertà che ci ha cambiato la vita e che chiamiamo musica. Per questo è necessario tenere i cesi pali e non abbassare il volume, perché morire vuol dire anche smettere di sognare e di scoprire. E' importante perché avremo un vero e un po' di cesi pali. La musica non si deve fermare.